Sono Francesco Polimeni, amministratore unico della Polinet SRL. Produciamo e distribuiamo in tutta Italia tecnologie investigative per procure e per aziende private. Oggi sono intervenuto al seminario di Stop Secret Magazine presieduto da Cosimo Cordaro dove ho illustrato e presentato alcuni dispositivi inerenti alle intercettazioni sia ambientali che telefoniche e dispositivi per la localizzazione satellitare di autovetture e persone. Abbiamo presentato nel seminario tecnologie inerenti alle intercettazioni audio e telefoniche perciò ho presentato dispositivi sia ambientali analogici, le cosiddette microspie o cimici e sia dispositivi sempre di intercettazione ambientali GSM prevalentemente utilizzate su autovetture e mezzi di trasporto che può essere anche il camion o eventualmente anche un aereo. Nel seminario abbiamo presentato anche dei dispositivi di localizzazione satellitare prevalentemente utilizzati per seguire gli spostamenti di autovetture, mezzi o persone fisiche. Tutto ciò che ho presentato qui al seminario se volete lo potete visitare sul nostro sito internet che è www.spiare.com Io sono Francesco Polimeni, già mi sono presentato, amministratore unico della Polinet SRL. Grazie mille!